Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come l'avete visto sicuramente dal titolo, oggi sono qua per parlarvi di come gestisco i miei soldi, banalmente per farvi capire come magari preferisco spenderli, come preferisco risparmiarli e come, diciamo, investo appunto anche i soldi che guadagno attraverso YouTube, che sono pochi, però comunque qualcosina racimolo. Spero appunto che sia un video utile magari per qualcuno e che vi possa magari dare spunto per iniziare magari a risparmiare in un certo modo, tale che spendere in un certo modo, farvi capire anche magari la filosofia con cui ragiono per portare delle cose anche qua sul canale, perché ovviamente per portare dei video su YouTube serve la qualità, serve delle attrezzature e appunto preferisco, diciamo, spendere i miei soldi per queste cose, ma in una certa maniera. Non perdiamo tempo e vi mando la sigla. Bene ragazzi, diciamo che sin dall'inizio i miei genitori, quindi mi è stato trasmesso dalla mia famiglia, di comunque risparmiare, ovvero, diciamo, la mia famiglia non è mai stata una famiglia ricchissima, anzi, sono una famiglia normale e comunque, diciamo, mi hanno sempre insegnato che i soldi per averli serve appunto del sacrificio, quindi non dobbiamo spendere i soldi così a caso, ma anzi, magari seguire dei criteri e cercare di risparmiare. Detto questo, ovviamente, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente, anzi, mi ritengo davvero fortunato perché comunque sono riuscito appunto a realizzare tutti i miei piccoli sogni che ho da bambino, per esempio, quello più grande, diciamo, che avevo da adolescente è stato prendere il mio primo drone, che ovviamente mi ha comprato mio babbo perché da solo non sarei riuscito a permettermelo. Devo dire che nella mia adolescenza ho iniziato a fare qualche soldino abbastanza presto, diciamo, del normale. Io, anche quando andavo a scuola, facevo appunto dei lavoretti con la GoPro, che ai tempi era tipo la telecamera migliore, io vi parlo del 2012-2013, e facevo appunto questi piccoli video di modellismo che poi rivendevo alle piste, così, a caso. Niente, quindi diciamo che ho iniziato a guadagnare qualche soldino molto presto, poi tra l'altro quando ho comprato il mio drone, che quindi è stata, diciamo, la principale fonte poi di guadagno, anche se il guadagno non era, diciamo, erano spiccioli, no, che così da bambino praticamente facevo qualche voletto per qualcuno, e niente, praticamente ho iniziato a, diciamo, fare qualche video con il drone e a rascimolare qualche soldino. Ovviamente non erano tanti e quindi me li tenevo praticamente in un cassettino in casa, così, a casaccio. Poi ovviamente dopo la scuola ho iniziato a fare qualche lavoretto proprio da dipendente, prima in un negozio di telefoni, poi in un'altra azienda, eccetera, e da lì quindi ho deciso di mettermi da parte questi soldi, non aprendo un conto, quindi ragazzi io ve lo dico questa cosa perché non tutti sanno che ci sono altre possibilità di un conto bancario, anzi, io la reputo una scelta saggia, quello che ho fatto. Non ho un conto bancario perché io ho sempre usato il circuito delle poste, quindi praticamente ho iniziato ad aprire la mia Postepay Evolution, che ai tempi era una novità perché la Postepay Evolution ha l'Iban, quindi è come se fosse un piccolo conto bancario, anche se non lo è, e quindi ho iniziato a depositare i miei soldi tutti nella Postepay Evolution. Ovviamente poi la Postepay è una carta di debito, quindi non è paragonabile ad un conto, e per risparmiare, quindi per cercare di mettermi dei soldi da parte, perché poi alla fine la mia filosofia è quella, cercare comunque sempre di riuscire a mettere qualcosa da parte, quindi magari guadagnare un tot e metà o magari più della metà cercare di metterla da parte, quindi lasciarmi i soldi necessari per vivere, quindi per andare fuori con gli amici, per fare le mie cose, però la restante parte di cercare di mettere da parte, così da accumulare nel tempo magari una somma che mi può servire per mille cose, per esempio per un domani prendermi una casa, per cambiare macchina se mi si rompe, per fare tutte queste cose e magari nessuno ci pensa, di solito magari specialmente quando siamo giovani, ci si vede arrivare lo stipendio magari a fine mese e dici wow quanti soldi, adesso sono ricco e posso sprecarli così a caso. Ovviamente anch'io ho avuto questa reazione, le prime volte che lavoravo mi vedevo arrivare magari, che ne so, 700-800 euro sulla carta così di botta e dicevo cavolo adesso sono ricco, li sputtano tutti per le mie robe. Ovviamente non avendo un conto, quindi utilizzando solo la Postepay, ovviamente la Postepay ha un limite, no? Ha un limite di prelievo, ha un limite di spesa, quindi nel senso non è molto comodo per poi magari farlo diventare come conto principale anche per il futuro. Quindi ho deciso di aprire un libretto postale. Allora il libretto postale essenzialmente è tipo un conto bancario, soltanto ti ci metti i soldi e poi non li puoi spendere. È un modo veramente infallibile per iniziare appunto a risparmiare, comunque mettervi dei soldi da parte senza toccarli mai più, ovviamente potete andarli a prelevare, però dovete andare fisicamente a prelevarli alla posta, quindi dovete andare allo sportello e richiedere appunto i vostri soldi che avete nel libretto. Però a livello online, a livello anche nei negozi o nei bar, non potete appunto usare il libretto per pagare, ma potete appunto solamente usare la carta. Non ho appunto un conto bancario, ma preferisco avere il libretto postale, o meglio, ho il conto bancario ma non lo uso e uso essenzialmente il libretto postale per risparmiare i miei soldi, quindi per tenerli lì senza che io li possa spendere, in modo che sono al sicuro. Ovviamente i soldi che mi servono per fare tutte le robe, le tengo sulla poste pay e quindi faccio tutto con quella. Ovviamente come fonte di guadagno principale ho il mio stipendio, che mi arriva appunto mensilmente, mentre come fonti secondarie ho il mio lavoro da freelance, che si può chiamare così, quindi io giornalmente faccio foto, video, loghi, comunque operazioni di promozione pubblicitaria, che faccio indipendentemente, quindi ho una, diciamo, un metodo di ricevuta, che si chiama ritenuto da conto e appunto faccio questi servizi da solo, da indipendente. Ovviamente negli ultimi mesi a questa parte, come nuova entrata, si è aggiunta anche YouTube, perché bene o male, comunque da YouTube qualcosa si guadagna. Riguardo ai soldi di YouTube, che appunto mi arrivano grazie a voi, ripeto, solamente grazie agli iscritti che guardano i video, che guardano le live, che guardano tutte le mie cose su YouTube, questi soldi cercherò di investirli interamente sul canale YouTube. Cercherò di migliorare la qualità, di magari comprare nuova attrezzatura, con i soldi che farò con YouTube. Per questo vi dico sempre, magari anche quando fate le donazioni in live, che vi ringrazio e non sono, diciamo, soldi buttati, giusto così, per fare una cagata. Sono soldi, appunto, che sono utili anche, appunto, agli iscritti più affezionati, magari a chi crede in me e magari vuole vedere uno sviluppo del canale. Per questo, appunto, tutte le entrate che ho da YouTube cerco di rinvestirle poi nel canale. E, appunto, dicendo questo, parliamo delle spese. Allora, io non sono mai stato uno che compra cose a caso, anzi, magari ho anche un difetto, che sono molto tirchio, quindi, cioè, anche prima di spendere un euro ci penso dieci volte. Essendo, appunto, molto tirchio, spesso, quando vado a comprare delle cose, ci penso dieci volte e poi magari non le compro. E questa è una cosa che la mia ragazza, magari, mi tirerebbe una scarpa in faccia. Parlando, appunto, di spese, ovviamente, essendo tirchio, come ho già detto, non sono uno che compra i vestiti. Cioè, ragazzi, io non vado quasi mai a comprarmi i vestiti. Cioè, piuttosto andrei al giro in mutande. Cioè, io non ho praticamente quasi niente di roba firmata. Anzi, probabilmente, questa è la malletta della fila che mi è stata regalata, quindi non l'ho comprata io. E penso sia l'unica roba firmata che ovviamente, chissà che è grande firma, nel senso è fila, non è che è Gucci. Però ovviamente io non tendo mai a spendere per i vestiti perché non ne vedo l'utilità. Per esempio, preferisco prendermi magari un paio di scarpe normalissime, magari carine allo stesso, ovviamente non dei cinesi, però comunque cerco comunque di prendere prodotti di qualità, ma che magari non hanno quella famosa marca che ti fa spendere il doppio dei soldi. Perché non ne vedo l'utilità, ragazzi. Cioè, io non sono uno che vado in giro a farmi vedere perché ho la roba firmata. Non mi sembra, prima cosa, una cosa giusta perché comunque sia i brand si prendono un sacco di soldi solamente per stamparci sopra la firmettina o il loghettino. Per esempio, Off-White, c'è una felpa di Off-White che cosa ha da invidiare a una felpa normalissima dell'Adidas? Cioè, che cosa cambia? Cambia solamente il logo perché anzi, probabilmente la felpa dell'Adidas come materiali sarà ancora di più di qualità, però Off-White ci mette il suo logo e quindi la fa pagare 500 euro al posto magari di 40 euro. Non l'ho mai ritenuto un concetto giusto però ovviamente c'è chi è appassionato di vestiti quindi gli piace vestirsi bene per l'amor di Dio non ho niente in contrario a loro. Detto questo, infatti preferisco spendere i miei soldi sulle cose che tendenzialmente potrebbero avere un potenziale in futuro quindi cose che mi potrebbero far guadagnare dei soldi in futuro o bene o male cercare di riprendermi i soldi che ho speso. Per esempio, quando ho comprato il mio primo drone che appunto mi ha comprato mio padre ho cercato di spiegare a mio babbo che con il drone ci si poteva fare dei soldi essenzialmente potevo cercare di guadagnare potevo cercare di farmici un lavoro di costruirmici qualcosa e così è stato ed essenzialmente il concetto che faccio io ogni giorno è proprio quello quindi che ne so magari vedo una fotocamera no, una fotocamera e dico ok costa 1000 euro guardiamo se compro questa fotocamera riuscirò almeno a farci 1000 euro quindi magari posso trovare più lavoro posso fare più video e quindi posso trarci 1000 euro per ripagarmici la spesa questa è la domanda che dovete farvi o comunque che mi faccio io ogni giorno prima di acquistare qualcosa tornando al discorso di prima appunto se voi comprate un paio di scarpe ovviamente quelle scarpe non è che vi fanno fare altri soldi anzi le consumate e basta poi le buttate ma non solo tecnologiche possono essere anche per esempio la patente del drone per esempio la patente del drone è una cosa che mi ha permesso di lavorare di più con il drone ovviamente se non siete a regola non vi chiama nessuno per fare i lavori non vi chiama nessuno per rischiare appunto a fare un lavoro con il drone mentre ho fatto la patente che è un investimento grosso però appunto posso trovare lavoro più facilmente facendo i video con il drone sono tutte spese che diciamo si possono considerare piccoli investimenti e niente ragazzi spero di avervi detto tutto era semplicemente una chiacchierata era un video molto particolare voglio fare appunto questo esperimento per vedere se qualcuno è curioso fatemi sapere anzi sotto nei commenti perché ho in programma anche di farvi una chiacchierata su come sono cresciuto su youtube e magari darvi qualche consiglio quindi fatemi sapere nei commenti se vi fa piacere appunto ovviamente io vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale con la campanellina per non perdervi altri nuovi video vi ricordo ovviamente di seguirmi su instagram dove posto le mie storie giornalmente dove annuncio tutti gli orari delle live sia su youtube che su twitch quindi seguitemi anche su twitch mi raccomando trovate ovviamente tutti i link in descrizione quindi qua da davide è tutto noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video ciao 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 ciao